Abbiamo visto con Jerome come si allevano le capre, come si mungi il latte, come si produce questo formaggio meraviglioso e siamo a Roccaverano, in piazza, in paese, all'Osteria del Bramante, insieme a Gisela, per conoscere questi piatti che vengono fatti proprio con questo formaggio. Cosa abbiamo davanti? Allora, qui a parte le robiole di Jerome, abbiamo un antipasto che proponiamo noi, è una sfogliatina di cipolla di tropea, leggermente in agrodolce, ha sia la robiola dentro, sciolta, che sul letto di salsina di robiola. Una meraviglia! E poi due varianti molto interessanti. Due primi, noi abbiamo iniziato per prima cosa a fare gli gnocchi nostri di patate con questa salsa e poi ultimamente stiamo proponendo il nostro plin, che è un ripieno di tre carni e verdura, e anche se è un abbinamento carne e formaggio, pure lo amano molto. La salsina di robiola è una semplice robiola sciolta con una nocce di burro e un po' di latte. Quindi proprio semplice, semplice, ma molto veloce da fare. Se a volte è leggermente cido, magari ci si può aggiungere un cucchiaio di panna, ma niente di più. Ecco, e la salsina di robiola la facciamo con quale delle tre robiola? Questa è mediamente stagionata e, visto che avete parlato di stusso, uso proprio la sua, perché la trovo che si scioglie meglio e si riesce meglio anche… Invece andando sulle stagionature un po' più avanzate… Ma la robiola parte da fresca, che la possiamo anche proporre con solo olio e pepe e poi in media stagionatura, più stagionatura. Questa è molto stagionata, che la si può grattare anche su un piatto di pasta al pomodoro, su uno gnocco al pomodoro o semplicemente mangiata così, accompagnata dalla nostra mostarda, che facciamo anche noi. E il formaggio è buono in tutti i modi, sia da fresco che da stagionato. Cioè più stagione più buono è, perché diventa più saporito, quindi… Ecco, il suo cliente, il suo consumatore, mediamente cosa preferisce? Una robiola più giovane, una robiola più stagionata? No, dipende dai gusti. Comunque noi al tavolo diamo un tagliere di robiola, che normalmente diamo sei tipi. Partiamo dalla più fresca, alla più stagionata, poi Sir Giron, che è un'altra ditta, che è la Maltea, qua vicino. Maltea la propone con la cenere gigi di nepro, un po' stagionata. E loro con le foglie e con la cera. Ecco, invece la vostra mostarda, mi racconti come la fate qua. A noi è la vecchia mostarda che facevano le nonne, praticamente è una marmellata dentro al mosto. Si cuoce il mosto, lo si fa già consumare un po' subito, e poi noi mettiamo diversi tipi, non so, tre tipi di mele, preferibilmente la renetta, sia la gialla che la rossa. Io metto tutti e tre i tipi, la mela cotogna, le pere, pesche, e verso la fine le nocciole. E si abbina molto anche con i formaggi, faccio anche un arrosto con le nocciole. E vi diceva prima che l'hai festeggia 10 anni quest'anno? Sì, al 18 marzo sono 10 anni in attività. Soddisfatta? Sì, i miei clienti sono partiti da un numero, sono sempre cresciuti, sono sempre in aumento, sia italiani che non italiani, perché in questa zona sta arrivando un bel turismo, più che altro dall'Europa. In un bel giro, insomma. Sì, sì, non mi lamento minimamente. Poi io sono una signora che mi piaceva cucinare e basta, non ho scuola alberghiera, non ho... Ah, quindi proprio cucina verace, diciamo. Cucina del posto. Ci ha preso gusto, è andata bene, le cose piacciono. Io ho imparato con mia mamma e continuo a fare quello che ho imparato da piccola. La nuova generazione le viene dietro? Sì, ho mia figlia che mi sta seguendo piano piano. Quindi sì. Anche se lei era più propensa per... Ha studiato, ha fatto lettere e poi invece si sono fermati tutti e due i miei figli qua a lavorare con me. Ah, mi sembra. Lui segue più il bar e la parte vini e noi seguiamo la parte cucina. Ultimo consiglio enologico, cosa ci... Ma io enologico non riesco a consigliarvi molto, però... Insomma, sono stile. Siamo in Premonte e quindi noi abbiamo un'infinità di vini, ma specialmente quella che è primeggio in tutti è la Barbera. Ci sono sia la Barbera normale, la Sonizza, adesso hanno fatto Tonizza che sta andando bene. Qua ultimamente hanno messo su, hanno provato sto Alta Langa e sta funzionando, ha molta richiesta. Quindi è di nuovo un altro prodotto molto azzeccato secondo me. Quindi puntiamo su vini locali perché siamo nella terra dei grandi rossi. Noi infatti abbiamo tutti i vini solo del posto, qui a Stigiano e dintorni. Bene, a questo punto gli auguri sono per il compleanno, per i primi dieci anni di attività. Ci vediamo fra dieci anni quando il suo figlio aveva preso le redini della cucina e lei sarà magari un po' più in relax. Ma speriamo, non lo so, perché quando si lavora tra figli e poi è un livello, cioè è un indirizzo familiare, quindi ci si aiuta finché salute promette. Bene, io lo faccio andare in cucina e intanto salutiamo i nostri ospiti. Grazie ancora signora. Bene, direi che le proposte siano veramente interessanti, sia per un menù invernale che per un menù estivo. Abbiamo visto dove nascono questi prodotti e vi do appuntamento alla prossima puntata perché scopriremo altre cose meravigliosamente buone da gustare e da conoscere. Grazie.